... Covid anziana ricoverata al Cardarelli, stamattina ha ufficializzato un nuovo caso, è una donna di Sant'Elia a Pianisi, forse contagiata da un parente rientrato da fuori regione. Altri sei positivi nelle ultime ore, quattro legati ancora alla Grecia, due tornati dal Marocco. Droga sulla costa, blitz dei carabinieri, operazione Tempio, tra Termoli e i centri dell'Interland, cinque le misure cautelari eseguite, anche quattro persone denunciate a piede libero. Migranti svuotato il centro di Campomarino, alle prime ore di stamattina anche gli ultimi otto tunisini ospitati nella struttura sono stati trasferiti a Campolieto, Toma, ho convinto il governo a fermare i nuovi invii e a Isernia la cooperativa Il GECO, querele quotidiano la verità. L'ospedale è sempre più carenza di personale, strutture sanitarie ancora alle prese con le difficoltà legate agli organici ridotti, il sindacato lancia l'allarme, è necessario procedere con i concorsi pubblici. Serie D arrivano le prime amichevoli, sabato test di debutto per Campobasso e Vasto Girardi, ad Agnone, oggi l'incontro con alcuni allenatori in vista della stagione. Buon pomeriggio dalla redazione di Telemolisi, dunque in apertura subito gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. Stamattina è stato infatti ufficializzato un nuovo caso in regione, quello di un'anziana di Sant'Elia a Pianisi, che dopo essere risultata positiva è anche stata ricoverata nel reparto di malattie infettive del Cardarelli. Il contagio non sarebbe legato ai focolai attualmente attivi in Molise, ma potrebbe essere stato causato da un familiare della donna rientrato da fuori regione. In queste ore le persone che hanno avuto contatti con lei vengono sottoposte a tampone. Ieri sera intanto sono stati confermati anche altri sei nuovi casi. Si tratta di due contagiati a Campobasso legati al cluster dei ragazzi rientrati dalle vacanze in Grecia, di due persone di Termoli, anche in questo caso rientrate dalle vacanze in Grecia, e di due contagiati a Forli del Sannio, marocchini, che erano rientrati in paese dal Marocco. Salgono così a 51 gli attualmente positivi in regione. I guariti restano 428. Dall'inizio dell'emergenza sono stati processati in Molise quasi 30.000 tamponi. Quanta la provenienza degli attualmente positivi? Questo è il quadro aggiornato. 34 casi a Campobasso, 5 a Campomarino, 4 a Termoli, 3 a Isernia, 2 casi a Campolieto e Forli del Sannio, un solo caso a Boiano, Ururi e Sant'Elia a Pianisi. E mentre l'emergenza Covid riprende vigore anche in regione, gli ospedali molisani sono sempre alle prese, in estate ancora di più, con un problema che è quello della carenza di personale. Il sindacato torna a denunciare questo aspetto e chiede con urgenza l'effettuazione di concorsi pubblici. Sentiamo Anna Maria Di Matteo. La Federazione Italiana Autonoma Lavoratori Sanità torna sul problema degli organici, un problema annoso per le strutture ospedaliere molisane che rischia di mettere a repentaglio anche l'assistenza sanitaria e le prestazioni agli utenti, soprattutto in questo particolare periodo di emergenza sanitaria legata al coronavirus. Il segretario regionale Carmine Vasile ha posto l'accento sulla situazione che si è venuta a creare denunciando la carenza ormai acronica di personale. Il 14 agosto è stata adottata una delibera per assumere a tempo determinato 22 infermieri e 7 tecnici di radiologia, ricordato Vasile. Questa iniziativa non può trovare condivisione da parte del sindacato perché significa riaprire le porte al precariato. Non è più rinviabile l'assunzione in ruolo con concorsi pubblici delle varie figure professionali che operano nel settore della sanità, ha aggiunto il sindacalista. Il diritto alla salute dei cittadini si misura attraverso la qualità e la quantità delle prestazioni sanitarie erogate e diventa esigibile soltanto quando nelle unità operative ospedaliere sul territorio dell'ASREM sono presenti tutte le figure professionali necessarie per assistere l'ammalato in modo appropriato e in sicurezza. Ha scritto in una nota indirizzata al vertici dell'ASREM al presidente della regione Toma. Il più delle volte nella nostra azienda sanitaria questo non avviene e il personale dipendente malsopporta gli eccessivi carichi di lavoro che ne conseguono. Dall'inizio della pandemia ad oggi, costanti cambiamenti organizzativi, talvolta troppo affrettati e l'incremento di contratti a partita IVA, hanno aumentato le situazioni di stress e le criticità per garantire le prestazioni assistenziali in completa sicurezza, ha denunciato ancora Vasile. Nei nostri pronto soccorso, in particolare in quello del Cardarelli, il numero dei pazienti in attesa di essere ricoverati spesso sfiora le 40 unità. Questo stato di cose non garantisce il distanziamento sociale e un'assistenza adeguata per carenza di personale e per carenza di spazi adeguati. Talvolta il numero delle barelle risulta insufficiente e la sosta avviene in sala d'attesa o addirittura in ambulanza. Una situazione è divenuta dunque insostenibile, alla quale la FIALS chiede venga posto un rimedio immediato, partendo proprio dall'assunzione di personale attraverso concorsi pubblici. Adesso la cronaca che ci porta sulla costa, dove c'è stata un'operazione antidroga dei carabinieri, è un'operazione che ha riguardato non solo Termoli, ma anche i centri dell'Interland. Nove le persone coinvolte, per cinque di loro sono scattate anche delle misure cautelari. Sentiamo i dettagli. L'hanno chiamata Operazione Tempio e ha consentito di stoppare un traffico di droga che univa Termoli ai centri dell'Interland, come San Giacomo degli Schiavoni e Guglionesi. Al termine delle indagini sono state cinque le misure cautelari eseguite. Un giovane di San Giacomo è stato arrestato, altri quattro si sono visti imporre l'obbligo di dimora. Ci sono poi anche quattro persone denunciate a piede libero. I dettagli dell'indagine sono stati resi noti dai carabinieri con una conferenza stampa tenuta dal comandante della compagnia di Termoli, Fabio Ficuciello. È un importante successo, ne segue quello di tanti altri, ovviamente sia in materia di sostanze stupefacenti, reati in materia di sostanze stupefacenti, ma non solo. Anche per quanto concerne l'attenzione e le attività a contrasto dei reati contro il patrimonio o contro la persona. Ieri mattina quindi quasi tutti i militari della compagnia sono stati impegnati nell'esecuzione di alcune misure. Un'attività di indagine è stata svolta principalmente dal comando stazione carabinieri di Termoli sotto il coordinamento della procura della Repubblica di Larino. Pertanto siamo soddisfatti perché abbiamo neutralizzato e abbiamo inferto più che altro un colpo molto importante all'attività di spaccio di sostanze stupefacenti sulla costa, assicurando da giustizia alcuni soggetti che in esecuzione di un medesimo disegno criminoso e anche in concorso tra loro avevano eseguito, avevano messo in campo questa tipologia di affare. Ascis, marijuana, eroina e cocaina erano le sostanze stupefacenti messe sul mercato. Fondamentale per le indagini è stata la collaborazione dei cittadini. Le informazioni principalmente provenivano dai cittadini che avevano notato alcuni movimenti sospetti o personaggi poco conosciuti nella zona di San Giacomo degli Schiavoni. Quindi in conclusione mi piace sottolineare proprio questo. I servizi di prossimità dell'arma dei carabinieri sono finalizzati a intercettare, a ricevere, a raccogliere delle informazioni che poi vengono vagliate, per cui può scaturire un'attività di indagine che porta a successi come quelle di ieri. Quindi benvengano le informazioni da parte dell'utenza, da parte dei cittadini che troveranno sempre le caserme aperte o comunque delle pattuglie in giro che saranno disponibili all'ascolto per concorrere al bene di tutti, cioè il bene della collettività e della sicurezza pubblica. E adesso la questione migranti con un vero e proprio blizza. Le prime ore di questa mattina gli otto tunisini che erano rimasti nel centro di accoglienza di Campomarino sono stati trasferiti in pulmane ambulanze per i soggetti positivi al Covid dal centro di Campolieto, operazione gestita da polizia, carabinieri e guardia di finanza. Soddisfazione per la soluzione della vicenda è stata espressa dal sindaco di Campomarino Silvestri che dal primo momento si era opposto anche con un ricorso alla giustizia amministrativa all'approdo dei migranti provenienti da Lampedusa. Intanto parla il governatore Toma. Io col governo collaboro, non vivo di proteste e basta. Ho spiegato, ho fatto opera di persuasione, ho fatto capire che il Molise non è nelle condizioni di accogliere altri migranti. Ecco perché il ministro Lamorgese ha revocato gli invii. Così la dichiarazione all'Ansa del Presidente della Regione che spiega lo stop di queste ore al trasferimento in Regione di altri migranti. Non siamo ancora pronti con l'ospedale Covid-Campobasso, ha aggiunto Toma. Ho parlato con Conte, Boccia e anche con Speranza. Siamo riusciti a far valere le nostre ragioni perché fin qui abbiamo sempre collaborato con le istituzioni nazionali. E intanto ancora polemiche a Isernia dove il Vice Presidente del Consiglio Comunale, Giovan Carmine Mancini, ha avuto un incontro in Prefettura sul tema migranti. Isernia e il Molise non possono essere terra di ospitalità per i clandestini, ha detto Mancini. Sentiamo Sergio Di Vincenzo. Non si placano le polemiche causate dalla gestione dei migranti a Isernia. Per il Vice Presidente del Consiglio Comunale, Giovan Carmine Mancini, la misura è colma. Lo ha detto quando sono arrivati i tunisini in città. Lo ha ribadito dopo la loro fuga e lo ha ripetuto durante un incontro con i vertici della Prefettura, chiesto proprio per affrontare la questione. Anche la Prefettura, e ringrazio la dottoressa Scioli per questo, ha rappresentato dal Governo che in caso di arrivi di altri clandestini sarebbero in difficoltà a gestire l'intera vicenda. Che significa che qualcuno dalla Prefettura sia ressa conto di questa situazione che è una situazione drammatica. In virtù di scelte allucinanti del Governo nazionale, ci troviamo in una situazione nella quale siamo stati rinchiusi per mesi, mesi e mesi, con limitazione delle libertà personali, ma soprattutto ed anche con grave danno per l'economia nazionale. E poi sembra quasi che questo Governo lo vada a importare, lo vada a cercare il Covid. A parte il fatto che è una questione di dignità nazionale, di identità nazionale, l'Italia non può essere più un grande campo profughi. Mancini non risparmia accuse al Governo centrale, ma soprattutto è critico per l'atteggiamento di sostanziale immobilismo che a suo dire ha assunto l'amministrazione comunale di Isernia. Isernia, tra l'altro, ha bisogno di altre attenzioni da parte del Governo, come il rilancio dell'economia in generale. Questo Governo piddino e grillino e cricchie di sinistra varia non ha dato un euro per le infrastrutture alla Regione Morise e quindi anche Isernia. E poi non se ne può più di vedere qualcuno che furbescamente lucra su queste miserie e mette in difficoltà un'intera città perché è sotto gli occhi di tutti il fatto che la gente comincia a avere paura, e ci potrebbero stare problemi anche di ordine pubblico rappresentando questa cosa ai vertici della Prefettura perché la gente non ce la fa più di vedere queste porcherie perché sono delle autentiche porcherie. Qualcuno si arricchisce, tutta Isernia soffre e dovremmo stare zitti. È evidente che più che il Vice Presidente del Consiglio, cioè il sottoscritto, che è il leader dell'opposizione, dovrebbe intervenire il Sindaco. Ma il Sindaco dorme da quattro anni e mezzo e speriamo che a marzo ce ne liberiamo. E intanto, sempre a Isernia, la cooperativa Il GECO ha dato in carico ai propri legali di querelare il giornale La Verità per gli articoli pubblicati nei giorni scorsi, tra l'altro oggetto sui social network di commenti denigratori e diffamatori. La Presidente della cooperativa, Barbara Ferri, ha inoltre precisato che la regolarità delle gare d'appalto è stata accertata anche dal TAR. Nessuno dei funzionari pubblici che ha preso parte ai procedimenti di gara ha aggiunto, è legato a vincoli di parentela con soci lavoratori del GECO, diversamente da altri operatori del settore. Ha concluso la Ferri, non abbiamo scopo di lucro, ma forniamo servizi sociali e opportunità di lavoro. Parliamo proprio di lavoro per tornare ad occuparci dell'Unilever di Pozzini. Il prossimo mese, quello di settembre, sarà un mese decisivo per capire quale sarà il futuro dello stabilimento. Per la CISAL, quindi per un sindacato, si va verso la riconversione. Ci sarebbero grossi dubbi sui posti di lavoro a rischio. Vediamo. Il sostanziale nulla di fatto con cui si è chiuso l'ultimo incontro convocato dal sottosegretario allo sviluppo economico, Alessandra Todde, non ha fatto altro che alimentare il clima di incertezza e preoccupazione tra i lavoratori dell'Unilever. Le proposte, che almeno sulla carta, dovrebbero dare un futuro allo stabilimento di Pozzilli, convincono fino a un certo punto. Anzi, per il segretario regionale della FIALC CISAL, Antonio Martone, non convincono affatto. Per noi andrà a finire male, nel senso che Unilever ci è sembrato di capire che ad ogni incontro fa un passo avanti e due indietro. Ci sono cinque manifestazioni di interesse per il nostro stabilimento. Quindi questo avvalora le nostre preoccupazioni iniziali che ci hanno portato a pensare che Unilever volesse dismettere lo stabilimento di Pozzilli. Queste cinque manifestazioni di interesse, Unilever ci ha detto che tre delle quali fanno parte del riciclaggio della plastica. E proprio nel momento in cui ci hanno detto che ci sono due manifestazioni di interesse per proseguire una produzione come quella attuale, quindi che si potesse indavolare un ragionamento sulla terzializzazione, ci ha detto che sono arrivate queste due proposte però non hanno loro produzioni da lasciare a Pozzilli. Nei mesi dell'emergenza con grande senso di responsabilità i lavoratori della Unilever di Pozzilli hanno fatto gli straordinari per consentire alla multinazionale di non subire contraccolpi dalla chiusura dello stabilimento di Casal Posterlengo. Ora però tutto torna in discussione. Probabilmente già il mese prossimo si conosceranno le reali intenzioni dell'azienda ma per Martone le premesse non sono incoraggianti. A settembre Unilever ha detto che porterà le uniche due soluzioni fattibili secondo loro. Secondo me si va verso un discorso di riconversione e quindi Unilever ha fatto strategicamente ha messo in atto il suo piano e quindi per Pozzilli sarà un problema ma per il Molise sarà un problema perché la riconversione dello stabilimento in riciclaggio della plastica sicuramente non potrà mai garantire la tutela dell'occupazione esistente sia per i dipendenti Unilever sia anche per i dipendenti dell'indotto che sono a questo punto la maggioranza. Da una parte all'altra del Molise da Pozzilli andiamo a Termoli dove la Fiat da poche ore si è rimessa in moto dopo la pausa estiva per l'autunno ci sono prospettive positive ce ne parla Manuela Iorio Prima settimana di riapertura per la Fiat di Termoli dopo la chiusura e lo stop alla produzione di agosto nello stabilimento di contrada rivolta del Re quasi l'80% delle linee sono tornate operative dal prossimo lunedì si lavorerà a pieno regime con il 100% dei reparti in funzione già dal rientro c'è stato un incremento dei turni di lavoro dove si producono i motori 8 e 16 valvole con un picco nella produzione che non si registrava da tempo grazie agli incentivi nazionali per l'acquisto delle auto partiti a inizio agosto la cassa integrazione covid è terminata dopo nove settimane e ora i dipendenti sono tornati sotto contratto di solidarietà che era scattato a gennaio per l'inizio dei lavori di trasformazione della linea produttiva che dal 2021 dovrebbe accogliere nuovi motori ibridi che verranno realizzati nell'impianto termolese abbiamo trascorso un periodo molto difficile affermato Francesco Guida segretario della Wilm Molise ma siamo moderatamente ottimisti perché da un incontro che abbiamo avuto con la direzione aziendale c'è stato prospettato in vista dell'autunno un aumento dei volumi per tutto il sito produttivo restano purtroppo le incognite legate al covid ma c'è attesa anche per conoscere i dettagli della fusione con PSA per capire gli impatti che avrà sui singoli stabilimenti intanto i lavori di ristrutturazione per produrre due nuovi motori ibridi continuano e non si sono fermati nemmeno durante la pausa estiva sono sempre più evidenti e impellenti i bisogni dei soggetti affetti dai disturbi dello spettro autistico e delle loro famiglie nel territorio della provincia di Isernia fa notare il presidente della quarta commissione consigliare della regione Filomena Calenda non esiste una struttura specializzata per la diagnosi e il trattamento dei disturbi connessi all'autismo nonostante un aumento dei casi spiega ancora la Calenda la regione non ha mai pensato di realizzare un centro socioeducativo che prendesse in carico questi soggetti le famiglie sono costrette a rivolgersi ai presidi fuori dai confini provinciali e qualche volta anche extra regionali per questo la Calenda ha esortato con una nota inviata alla regione e alle altre istituzioni competenti risposte per le tante istanze che arrivano dal territorio adesso andiamo a Bagnoli del Trigno dove ieri sera c'è stato un debutto singolare il debutto del primo GIN tutto molisano ce ne parla Giuseppe Carriera Bella Maria come la bella popolana del paese duchessa come vittima delle angherie del duca che storicamente rivendicava il diritto alla prima notte incendio come la rivolta del popolo e l'incendio del castello rievocato ogni anno con i fuochi pirotecnici in frammenti d'antico il 18 di agosto la storia del paese in tre nuovi GIN prodotti a Bagnoli del Trigno con le botaniche raccolte e coltivate a chilometro zero e presentati in una serata evento da Charles Flaminio bartender di origine molisana tra i migliori dieci d'Italia le tre tipologie sono il dry l'aromatico e lo slow lo slow perché le bacche di prugnolo che la rupe dà il colore rosso ma invece qui ci abbiamo messo una percentuale perciò il colore è diverso dove c'è una percentuale più alta di slow qui nell'aromatico e una percentuale ancora più bassa nel dry abbiamo messo il dry più secco e più agrumato l'aromatico meno agrumato e più erbaccio e lo slow è bello e buono così di suo fanno 35-41 gradi naturalmente lo slow è un liquore al prugnolo slow non da calmo come dicevamo in intervista ma da bacca di prugnolo in inglese slow bacca di prugnolo un buon cocktail è fatto da ottimi spiriti e tonica di livello nella serata di Bagnoli degno complemento è stato offerto anche dalla tonica prodotta partendo d'acqua di sorgente da una storica azienda di Frosolone partiamo dal fatto che come hai visto tu è buono già da neutro è buono già da neutro già il fatto che un prodotto è così già buono da neutro insomma ti dispiace anche miscelarlo perciò insomma è una cosa che va diciamo c'è un c'è dietro c'è un sentimento c'è stato tante discussioni per trovare il metodo e non un prodotto piatto liscio che passasse no questo è buono già così da neutro ed è buono sapere che compri una bottiglia di gin e non sei a forza costretto a fare un gin tonic ma anche berlo neutro dopo i pasti a casa come tutte le persone possono fare che bevano una grappa sostituiamo anche una grappa sostituiamo anche un liquore però con un prodotto eccentico molisano e non è un prodotto di GDO cioè di poco valore perché è un prodotto di nicchia bere responsabile ma soprattutto bere bene è l'imperativo abbiamo chiesto al pubblico cosa pensa dei gin morisani buonissimo veramente anche perché proprio come diceva Charles proprio non si sente l'alcol è tutto molto roccio tutto sapore ben amalgamato di loro e poi anche lo spruzzo di quella di quella aroma veramente fantastico beh erano veramente particolari non si possono trovare in altri posti perché il prodotto del genere sono effettivamente del posto e hanno il sapore del posto il cocktail è una favola è particolarissimo e ne valza la pena assolutamente venire e degustare l'alcol non lo senti per niente non senti bruciore alla bocca o il solito sapore dell'alcol che compri al supermercato il gin tonic è uno dei miei cocktail preferiti perché qua mi piace molto con un gin aromatico con una tonica anche più neutra in modo che si sente il gin in questo è il caso quindi molto buono equilibrato comunque sono buoni delicati giusti al palato a me è piaciuta tantissimo la serata anche a me piace tantissimo anche tutto il progetto il voler creare un prodotto nuovo molisano mi rende proprio orgogliosa buono molto buono fresco si sentono le botaniche con cui è fatto gradevole il cocktail è buono molto profumato quindi gradevole è una specialità buono fresco saporito ingredienti corretti giusti e anche leggero devo dire a Bagnoli ci spostiamo a Trivento dove sempre ieri sera invece si è conclusa la quarta edizione di Rocciamorgia il festival ha svoltosi per sei giorni tra il centro Trignino Sant'Angelo Limosano e Pietracupa per l'evento finale sulla scalinata di San Nicola protagonisti sono stati il giornalista Domenico Iannacone il poeta e paesologo Franco Arminio che hanno parlato e proposto una parte della recente trasmissione da casa tua a casa mia che ha unito il paese di Arminio Bisaccia in Campania con quello di Iannacone che è Torella del Sagno tante le persone che hanno assistito all'evento conclusosi con l'esibizione di alcuni hanno animato le serate dell'iniziativa proprio Iannacone e Arminio oggi e domani saranno protagonisti invece delle prime due serate evento della festa del Morrutto di San Giovanni in Galdo per entrambi gli appuntamenti però i posti sono terminati e non è più possibile prenotarsi a Campobasso invece torna Kiss Me Deadly quindi parliamo di cinema la rassegna organizzata dalla Fondazione Molise Cultura parte il prossimo 24 agosto stamattina c'è stata la presentazione vediamo torna nonostante il coronavirus Kiss Me Deadly la Kermess sul Nuare organizzata a Campobasso dalla Fondazione Molise Cultura un programma interessante che si aprirà il 24 agosto la location è quella della sede della fondazione in mattinata la conferenza stampa di presentazione è una Kermess che ha avuto sempre un successo dal primo anno strepitoso e che si è confermato nel corso degli anni anzi è andato quasi esponenzialmente crescendo anche per la formula che ha sempre votato intorno alla programmazione la possibilità anche di vivere gli spazi della fondazione la possibilità proprio di socializzare anche tra una proiezione e l'altra l'arricchimento con presentazione di libri naturalmente quest'anno è un'edizione ridotta per alcuni aspetti perché ci sono delle prescrizioni ben precise ma nonostante questo io credo che il risultato fondamentale sia il fatto che la programmazione ci sia quindi non si sia interrotta e che nonostante in altri contesti a volte alcune Kermess sono state chiuse sono state rinviate al 2021 invece noi continuiamo anche grazie soprattutto a Chismy Deadly a portare gli appuntamenti e quindi a intercettare un pubblico che attendeva tra le altre cose questi momenti il film invece americano è un'opera di una esistra diente afroamericana e il fotografo è un po' invece quella che è l'America di Trump in qualche modo addirittura anticipando gli sei mesi rispetto agli avreimenti che poi sono seguiti quindi la morte di George Floyd e il risorgere del movimento Black Lives Matter continuiamo poi invece con l'unico film che ha qualche anno di più che però è sicuramente inedito per l'Italia fino a pochi mesi fa che si chiama Memoria un assassino ed è un grandissimo thriller la caccia consigliativa respirata a una storia vera accaduta in Pianna Santa nella provincia della Corea del Sud ed è diretto a Bong Joon-ho che è il revista Parasite film che è stato vincitore quest'anno del premio Oscar il quarto film invece è un noir questa volta classico o lindiano ma nel senso migliore interno è Motherless Lopena diretto in questo caso di George Floyd ma dentro siamo anche a questi ultimi avventori da Bill & Defoe a Bruce Willis chiudiamo con Divertest Man che è l'unico film italiano della proposta di Gossano il 5 numero perfetto è diretto ed è anche questo un episodio è diretto da Idiots che è un grande straordinario disegnatore a cuore di fumetti italiano probabilmente e si è ispirato a uno suo graphic novel di un po' di anni fa 5 numero perfetto è lo stesso titolo del film per raccontare una storia veramente Noir interpretata da Sony Cervillo è usata nell'annato degli anni 60 una storia di vendetta con un vecchio famotista che si torna sulla scena per cercare di assortire dell'arrivo bene con il cinema di Chiesme Deadly si chiude il nostro telegiornale io vi lascio al meteo poi come sempre ci sono le notizie sportive noi ci vediamo tra mezz'ora per il TG Flash delle 15 a più tardi buon pomeriggio a più tardi a più tardi a più tardi